eeeh ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Ximprocifolchristix e oggi siamo in un nuovissimo video un po' diverso dal solito oggi sono con mio fratello e spiegherà a lui che cosa andremo a fare, salutare ciao ragazzi oggi siamo in un labirinto, abbiamo fatto un labirinto oggi, abbiamo voluto portare un labirinto dove porteremo in futuro ma video di nascondino, di guerra come oggi con vari tipi di armi eeeh leggiamo questo libro che c'è quel libro lo leggo io, qua c'è scritto buona fortuna prendo il libro allora ok, oggi ragazzi dovrete affrontarvi nel labirinto della sventura avete il vostro impargiamento nella posti techester chi farà per primo tre uccisioni vincelà, buona fortuna ok ok quindi dovremmo affrontarci con delle armi ah la posti techester, wow che belle armi due spade diamanti, archettino tattico però è molto carino anche l'entrata così, col muretto l'oro sì, è carino allora, prendiamo prendiamoci le due spade ok ok, mi prendo anche le frecce ok, tu sei pronto? ok sì, ci sono e come faremo ad andare? tra un po' vengo io ma perché non si sente? ma si sente male, che palle vai che hai detto? vai, parti tu, io vengo tra un po' almeno giro anche ok, io sono entrato ok, se vuoi farmi degli assalti ti puoi anche shiftare sì, sì ok, ci sono lo sciacco ok aiuto ti ho colpito con l'arco dalla torre eccoti ah, vai non mi faceva una rotella guardami dai sono sciuttato no no via 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 ho buttato la spada no, ho sbagliato oh no aiuto dai fammi andare avanti non ho preso la spada ecco dai ecco ti giuro si no ok una kill per te ora devo prendere il loot ok te lo vengo a dare te lo vengo a dare vieni fuori siamo 1-0 per te è stato molto divertente guarda quante frecce hai sì fatta di frecce ok tieni do allarme ok mi hai dato uno stack tuo eh ma io ne ho due stack ora tu ti ne hai ripreso uno stack in più eh perché ecco tieni ok un attimo devo risistemarmi l'inventario io io ma comunque ora metto eh metto giorno sì metti giorno vai eh tu vai ok io vado ti dico quando sono pronto eh ok vieni ok sono arrivato al centro che silenzio lo sapevo no 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 dai ecco ti ti seguo ecco ti ho ucciso ok ti vengo a dare il loot dai ma io volevo mangiare la mela d'oro ma c'ho un sacco di ansia quando te dai allora fra però ora eh eh mi dispiace ma le mela d'oro te le ho rubate cioè ce l'ho io adesso se ti ho ucciso sì siamo una kill per uno siamo una uno ecco tutto le spade tarco ok ti ho dato tutto ok le mela d'oro però erano mie ormai non me le hai rubate eh sì ma ormai te le ho fregate perché cioè se ti uccido anche tu se mi uccidi dopo te le vabbè io sono già entrato aspetta ok vai puoi venire ma se non mi sbaglio eh ok 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 Oddio, che paura Paura Oddio, che paura, un pipistrello Madonna Ti ho preso Dai, basta, non vale se stai tutto Se stai camperato lì, però Se stai camperato Oddio Dai, no No, lasciami stare Dai, dai Non vale, però Che stai camperato e poi vieni da me Dai, ora ce la me la doro anch'io, eh Nabbo Dai, muori 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 Via, scappa, scappa No, 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 no No, 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 no No, cerchi che l'accello Aiuto 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 Dai, qui ce la me la doro Eh, non vale No Mi sto pisciando No No Mi sto pisciando No Mangia Mangia, mangia, mangia Mangia, mangia, mangia Ok Se tu ci lo mi so fatto un salvataggio Madonna Dai Dai Muori Quando muori Dai Vai 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 Ti vengo a portare le cose Non vale, però, eh Se tu ti mangi la me la doro Ti stai camperato E ora E ora Dammele le mele Dammele tutte le mele Sì, sì Fermo, fermo, fermo No Te le do 39 No 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 Tu ce le hai di più Che palle Ma tanto Mi calo su tutte E me la traspada E l'arco Eh Ecco Vai Ti ho dato tutto Oh, io vado E non sbirciare Mentre vado Sì, sì Ma ora mi giro Io ora Non ho più voglia Di stare shiftato Ora vado Dritto per dritto Entro, eh No Aspetta Ok, fatto Può entrare Può entrare Uh 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 No, no No, stavolta non muoio Dai Ok, dai, è finito Ma hai vinto Sì, 3-1 No Dai, rientra